Anche Prato festeggia la Notte dei Ricercatori, evento che su volontà della Comunità Europea si svolge in simultanea in centinaia di città universitarie d'Europa. L'appuntamento è per domani in piazza dell'Università a Prato. Si comincia alle 17.30 con l'apertura di 16 stand di laboratori e progetti multidisciplinari, specchio delle tante attività di ricerca portate avanti dal polo universitario pratese. Dopo l'aperitivo con la scienza alle 20.30 si terrà il talk show dal titolo «I ricercatori raccontano il loro lavoro e i suoi effetti sul nostro quotidiano». Non è un caso che le uniche città toscane che partecipano alla Notte dei Ricercatori siano Prato e Firenze. Il polo pratese infatti investe moltissimo in ricerca, che rappresenta circa i due terzi del proprio bilancio e che garantisce anche degli importanti ritorni economici. La peculiarità del PIN infatti è lo stretto rapporto tra azienda e ricerca. Il fatturato è di circa 3 milioni di euro e i ricercatori impegnati ogni anno tra progetti e contratti vanno dai 150 ai 200. Circa il 20% delle imprese che collabora con i laboratori universitari è di Prato, in particolare dei settori ICT e servizi al tessile. Il resto viene da fuori. Il presidente Fioravanti definisce la ricerca a una delle tre colonne del polo pratese insieme all'alta formazione e alla didattica. Prato non solo ha mantenuto le posizioni ma ha incrementato grazie al fatto che ha affiancato alla didattica, ai corsi di laurea e alla ricerca. E questo non è frequente nei cosiddetti recentramenti universitari, ma questo è il segno vero.